Ui Franco, ciao, ho saputo Gigi, è successo ieri, si la so, nessuno è perfetto, mi dispiace pazienza, dove stai andando, adesso me ne vado a un cinema così per, al cinema, e come se ti vedi qualcuno, come ieri è morta tua moglie, e che devo fare, tanto è un film in bianco e nero dai, e poi l'avevo già visto, purtroppo, c'è.